Ed ora invece ci spostiamo nella vicina Liguria, parliamo di miele, una produzione di pregio. Il miele per la Liguria rappresenta una produzione di pregio sicura e garantita, che negli ultimi anni ha visto crescere del 40% le imprese professionali, superando le 800 unità, mentre gli apiari sono stati incrementati addirittura dell'80%. La pazza primavera però, a macchia di leopardo su tutta la regione, non ha risparmiato l'apicoltura ligure. Con il lavoro delle api messo in crisi da maltempo e basse temperature per la stagione, fattori che hanno costretto gli apicoltori a dover ricorrere in alcuni casi a nutrimenti d'emergenza. A farne le spese rischia di essere soprattutto il miele da caccia e di ciliegio, mentre a livello nazionale si conta già un crollo di almeno il 30% della produzione di miele made in Italy. In un 2021, segnato in media da quasi un evento estremo al giorno, tra siccità, bombe d'acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera. Siamo con Roberto Sartori, esperto apistico di Api Liguria. Roberto, ci puoi descrivere il corso primo livello che hanno frequentato i ragazzi? Sì, nel secondo corso comunque praticamente si svolgeva su sei lezioni teoriche e due pratiche. Quelle che abbiamo fatto stamattina era la seconda lezione di pratica, in modo da far vedere ai futuri apicoltori come si deve procedere, aprire un'arnia, controllare e vedere le cose basilari per procedere ad acquistare due sciami e diventare futuri apicoltori. Quello che avete visto stamattina e che rispecchia l'annata, cosa è stato? L'annata purtroppo al momento è ancora tragica. Come avete visto con le immagini, c'è la produzione di nettare e di miele, quindi non ce n'è e siamo costretti ad alimentare. Anzi, controllando stamattina abbiamo visto proprio le arnie con zero scorte sotto, quindi bisogna procedere ad alimentare. Nonostante tutto abbiamo la caccia fiorita sulla testa. In quest'annata la caccia oramai direi che è stata compromessa, a meno che non riusciremo a fare qualcosa dai 500 metri in su, ma questo si vedrà fra 15 giorni. E speriamo che non sia compromesso anche tutto il resto, perché comunque se loro non hanno scorte sotto e quindi non riempiono il nido, a Milario non salgono. Prima loro lavorano per loro, poi per me. E quali sono i mieli più famosi della Liguria? Allora, i mieli più famosi della Liguria abbiamo l'erica, che si fa in primavera, un millefiori primaverile, acacia, castagno, millefiori, tiglio, la melata, sono un po' di anni che non si fa più, però quella macchia di leopardo, e da qualche anno a questa parte oramai facciamo anche l'edera. In alcune zone si può fare anche il corbezzolo. E qual è la differenza per il consumatore da un miele Ligure a un miele straniero? Beh, un miele straniero intanto sono i trattamenti, perché il miele nostro, se diciamo si lavora con acidi organici, eccetera, deve essere comunque in Italia, qualsiasi trattamento si faccia regolare, deve avere un residuo zero sul miele. I nostri colleghi comunitari o non, usano prodotti non leciti, e quindi non hanno un residuo zero, né sul miele né sulla cera. Come monitori i tuoi alveari? Allora, io in questo momento ho delle bilance, una per apiario, e tutte le sere mi viene mandato un report, un giornaliero e una mail settimanale che ho reso conto degli apiari, e si vede, cioè molto importante, roscettico su sta cosa, perché purtroppo il costo non è ridicolo, è molto elevato della bilancia, però te lo ripaghi, perché eviti di fare delle corse avanti e indietro per nulla, e eventualmente, come stiamo vedendo adesso, abbiamo visto proprio poco fa, vedi che stanno consumando meno mezzo chilo al giorno, quindi devi correre a nutrire. Nell'altro caso, se avessero fatto un segno più di mezzo chilo al giorno, quando sai che il melario è pieno, correresti a mettere un secondo melario.